Occhio alle banconote da 20 euro soprattutto. Potrebbero essere false. Questo è il monito da parte dell'ultima operazione della Guardia di Finanza di Taranto. Le fiamme gialle hanno sequestrato banconote contraffatte per un valore di oltre 12.000 euro e se nella speciale classifica del falso al primo posto troviamo la banconota da 20 euro, al secondo posto quella da 50 seguita da quella da 100 euro. I finanzieri del comando provinciale di Taranto hanno ricostruito l'intera filiera partendo dal singolo detentore di una banconota contraffatta per individuare anche le ipotesi di reato commesse quali la truffa e il riciclaggio, naturalmente al vaglio della Procura della Repubblica. In queste indagini un significativo supporto è arrivato dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia che rimette periodicamente al comando provinciale della Guardia di Finanza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi avvenuti nella provincia di Taranto. Un raffinato lavoro di intelligence finalizzato alla lotta alla criminalità economico-finanziaria per dare sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento perché, come ribadisce la Guardia di Finanza, contrastare la falsificazione dell'euro contribuisce ad accrescere l'affidabilità e la sicurezza della moneta unica, simbolo tangibile dell'unità europea.